E' uno scontro fraticidia, più passano le ore più si fa incandescente, tutti o quasi contro tutti col PD che continua a farci una pessima figura, un partito nel caos in provincia, adesso ci mancava pure lo scontro tra il segretario provinciale Giovanni Denaro e il segretario del primo circolo Giovanni Lauretta, quest'ultimo aveva accusato Gigi Bellassai, coordinatore della commissione per il congresso, di atteggiamenta arrogante e prevaricazione, ma a difendere lo stesso Bellassai c'è lo stesso Denaro, il quale sulla vicenda della convenzione a zero voti, fatta dallo stesso circolo ragusano, Rileva che arrivano voci di scritti dell'area Civati, ai quali sarebbe stato impedito di esercitare il voto e di presentare la lista. Se tutto questo fosse vero, rimarca Denaro, saremmo di fronte ad un problema di assoluta inagibilità politica, perché non si può fare appella alle regole e poi, subito dopo, disattenderle. Il segretario provinciale Vittoriese ha pertanto espresso solidarietà Bellassai allo stesso tempo, ha auspicato che all'interno del partito i tong vengono abbassati, in modo così da ripristinare un clima di collaborazione dialettica civile con un confronto sereno e costruttivo. Non ci sta naturalmente dall'altra parte Lauretta che parla invece di dichiarazioni false e lesive della sua onorabilità personale, e meno male che osa lo stesso Lauretta che Denaro voleva creare serenità all'interno del PD.